Vesta tutti fuori! Fuori! Venite fuori dall'acqua! Di che si tratta? Che cos'è questo film chiamato lo squalo? Beh, in breve, a quanto pare, sembra che nel mare vicino a un'isola chiamata Amity, si aggira uno squalo malefico, enorme, così cattivo e tremendo che appena lo vedi, mamma mia, gli devi tirare proprio degli schiaffi. Ma attenzione, questo squalo morde! Inizierà nella sua carneficina uccidendo una ragazza all'inizio del film, poi un bambino, un ragazzo sulla barca, eccetera, eccetera, eccetera. In questo film le morti sono veramente terribili, terrificanti e sfaventosi e toccherà a tre uomini sconfiggerlo. Uno è Brody, Brody è il capo della polizia dell'isola, della città. Poi abbiamo anche Quint, Quint è un grande pescatore, uno che sa come si guida una barca e sa come si uccide uno squalo. E poi abbiamo anche Matt Hopper, uno che ne sa di squali ed è un tipo molto intelligente. Dopo le morti che sono accadute vicino alla spiaggia dell'isola, questi tre prenderanno la barca di Quint e andranno alla ricerca dello squalo per ucciderlo una volta per tutte. Sì ragazzi, la trama dello squalo è veramente semplice, ma io ora sono qui per fare una rivelazione. La prima volta che ho visto Jaws è stato l'anno scorso. Lo so, sicuramente volete lanciarmi dei pomodori addosso, ma io non ho mai visto lo squalo da bambino e per fortuna. Però mio padre mi aveva sempre detto che lo squalo, quando l'aveva visto nel 75, era un po' rimasto turbato. Infatti ragazzi, se voi non lo sapete, ma quell'anno in cui è uscito lo squalo e tutto il successo che ha avuto, veramente ragazzi ha avuto un impatto culturale assurdo, tanto che tante persone non riuscivano neanche andare al mare perché hanno paura di morire per copa di uno squalo, dove l'aveva visto proprio lo squalo. Sapete per quale motivo ci sono tutti quei scherzi con la gente che indossa sulla testa delle pene di squalo? E beh ragazzi, è proprio dovuto al film dello squalo. Lo squalo ha avuto un'importanza galattica, gigantesca e terrificante nel mondo del cinema e nelle persone. La musica, quello che fa tan 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 tan, la sentiamo dappertutto. Cioè, è sempre presente in ogni film, in ogni scena, sia in chiave comica, in chiave spaventosa. Questo che è ragazzi. Jaws, devo ammetterlo, mi ha terrorizzato tantissimo. L'ho guardato con mia mamma un giorno dopo essere tornato da scuola. Non sapevamo che cosa guardare su Netflix. Abbiamo deciso di guardare lo squalo e... Cacchi. È stata un'esperienza spaventosa. Ma, allo stesso tempo, fantastica. Lo squalo ha delle scene che veramente dimettono un'ansia tremenda. Per me è più un horror, sinceramente. Però non lo so, thriller? Sì, c'è il sangue. Lo squalo è terrificante. La scena finale, il combattimento conclusivo è pazzesco. Però davvero ragazzi, ci vuole coraggio. Lo squalo è uscito tantissimo tempo fa, nel 1975. Ma ancora oggi è veramente spettacolare per tutto quello che fa. Ogni scena, ogni personaggio, ogni cosa è bella. I primi 30-40 minuti del film sono davvero spaventosi. Anche se poi, verso la fine, quasi, quando i tre protagonisti prendono la barca e cercano di uccidere lo squalo, lì il film diventa un po' più lento. Ma questo non lo fa diventare un pessimo film. Anzi, è un vero e proprio capolavoro. Io ragazzi non ho mai visto lo squalo 2, lo squalo 3, lo squalo 4, ma sinceramente non me ne frega mai niente di guardarli, perché so che, tranne il secondo, gli altri fanno veramente schifo. Quindi gente, dimmi nei commenti se avete anche voi visto lo squalo Jaws, se da bambini o recentemente. Se non avete ancora guardato, io vi consiglio di vederlo, perché è strammatamente spettacolare. Ma attenzione, perché forse farete gli incubi. Questo è tutto, e noi c'è la prossima. Attenti allo squalo! Uuuuh! Grazie! Grazie!